Questo lo conoscete, questo si chiama Triple Stroke Roll, vuol dire che sono tre colpi per mano. Prova. Sto prendendo il volto. Adesso proviamo ad andare a tempo. Aceleriamo. Vai, vai. Applausi. Questo è chiaro. E' chiaro? Vabbè, prima, sei appena arrivata ti metto qua. No, no, assolutamente. L'idea è qual è? L'idea è qual è? Se io lo faccio così diviso, quando sono da solo... Questo rubimento, per esempio, è utilissimo per imparare a fare, dopo ne parliamo quando siamo nel mondo dei piatti, a suonare bene, per esempio, il jazz classico, lo swing, che può essere fatto molto bene. Oppure... Nel triple stroke roll... Però abbiamo fatto io, lei, coi chiami, scusate? Daniela. Daniela, io e Daniela abbiamo fatto il triple stroke. Cosa c'era quella famosa di... Wilma, dammi la clava! Mi si chiamava... Flintstone. Flintstone. L'ho fatto questo. Il... Questo cos'è? Il... Conoscete un po' lo stesso corso di strutture? E' un... Sapete cos'è la... Un... Anatole... Se avete messo a denominare... A-B-A... La parliamo dopo. Flintstone! Flintstone. 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 Grazie a tutti.